Parliamo di criminologia, lo facciamo con Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Rizzi, innanzitutto presentiamo il suo ultimo libro che si chiama Investigare 5.0, criminologia e criminalistica, viaggio nel mondo delle indagini. Allora le chiedo, innanzitutto da cosa nasce l'idea di scrivere un libro e investigare 5.0, perché le indagini evidentemente cambiano e in che modo? Guardi, in realtà abbiamo sentito l'esigenza, gli autori sono ben 46 di questo libro, di dare un po' una fotografia di quella che è la metamorfosi tanto delle organizzazioni criminali, tanto del modo di investigare. Siamo in un'epoca globale e digitale e questo ha completamente e radicalmente cambiato gli scenari criminali e di conseguenza l'investigazione si è dovuta adeguare. In questo libro pertanto si parte da quelli che sono un po' la storia della criminalistica, parliamo del sopralluogo, parliamo delle indagini biologiche, delle indagini chimiche, della balistica, ma poi si va verso le nuove frontiere del crimine, le piattaforme criptate attraverso le quali le organizzazioni criminali oggi colloquiano, il tema del riciclaggio così come oggi avviene attraverso le criptovalute o attraverso le blockchain, si affrontano scenari che costituiscono un'eccellenza nell'investigazione italiana, penso alla tutela del patrimonio culturale ed artistico e in più si affronta il tema delle mafie globali, di quello che è quella internazionale del crimine che oggi vede nella globalizzazione, non più mafie locali radicate in un territorio, ma mafie che diventano imprese e che fanno business globali. Rizzi nel libro si volge lo sguardo verso anche il ruolo della vittima che si guarda in una prospettiva diversa, corretto? Assolutamente sì, io direi che questo libro come libro di criminologia sposta l'attenzione dal criminale alla vittima, storicamente la criminologia ha sempre avuto il criminale come centro primario degli studi di criminologia, un po' alla ricerca tutti i criminologi di quello che potevano essere le stimmate dell'uomo criminale. Questo libro è dedicato alle vittime che non hanno avuto giustizia e quindi a tutti gli sforzi che gli investigatori dovranno continuare a fare per restituire giustizia alle vittime e soprattutto pone la vittima in una prospettiva diversa. Se nella storia della criminologia la vittima aveva un suo rilievo nella criminogenesi di un reato per cercare quelli che potevano essere sviluppi investigativi, quindi il rapporto vittima-carnefice, questo libro apre a una visione diversa che criminologicamente viene definita umanistica, cioè la vittima come portatore di un dolore e che cosa si può fare, quali forze si possono mettere in campo per sostenere e proteggere questa vittima ed evitare forme, quelle che gli psicologi chiamano, di vittimizzazione secondaria, ovvero ulteriore dolore oltre a quello già vissuto. Un libro davvero interessante da leggere, magari anche per chi non è un addetto ai lavori, insomma che non si occupa di criminologia, però davvero molto interessante. Rizzi, l'ultima domanda, prima di salutarla, parliamo, ne approfitto insomma del suo intervento qui, di sicurezza, le volevo chiedere quanto è sicura oggi l'Italia, quanto siamo al sicuro noi italiani? Le statistiche anche comparate vedono l'Italia tra i paesi più sicuri al mondo e questo diciamo contrasta un po' con la quotidiana percezione di insicurezza che anche questo è effetto un po' della globalizzazione per cui noi viviamo una paura che è globale, quello che accade dall'altra parte del mondo diventa la nostra paura del quotidiano. E anche con la cronaca, no Rizzi, insomma stride un po' questi dati? Sicuramente stride con la cronaca perché ogni singolo fatto che accade acquisisce una sua gravità autonoma e che crea allarme sociale. Ma se guardiamo i numeri complessivi, noi l'anno scorso abbiamo avuto 300 omicidi, nel 1992 gli omicidi erano 3.000. Credo che basti questo dato per dare l'idea di come ci sia un calo generalizzato della criminalità o quantomeno una risposta adeguata in termini di prevenzione. Se poi ci spostiamo verso altri paesi del mondo, ci accorgiamo che l'Italia è tra i paesi più sicuri al mondo. Pensi che in alcuni paesi con una densità abitativa minore della nostra si registrano oltre 500, 1.000, 1.500 omicidi in un anno. Noi stiamo parlando di una realtà complessivamente sicura. E allora Rizzi, sicuramente questi sono i dati che ha citato, che ci confortano, no? Quanto meno. Grazie. Sicuramente sì. Grazie, grazie Vittorio Rizzi per essere intervenuto qui a TG Com24. Grazie.